Il nostro banco è un banco digitale enabled relationship bank. Naturalmente, ci sono investimenti in una plataforma digital che è un'applicazione mobile, un'applicazione molto successiva. Il banco è un banco online. Ci sono stati di fare un'applicazione di clienti a migrare. Ci sono stati di adottare il tipo di tecnologie. E, naturalmente, abbiamo meno tráfico dentro del nostro branco durante le ultime due o tre settimane di luna. Ci sono stati di avere un'applicazione di streamline. Naturalmente, abbiamo fatto un banco grande, come un'applicazione di un'applicazione di un solo paese, per avere un solo pianissimo razo e lavoro. Abbiamo avuto un'applicazione di centralizzare qualche operazione per l'uomo di a migraia migraia. Come lo faccio, abbiamo avuto un'applicazione di espertese, abbiamo avuto un'applicazione di realizzare, ma è un'applicazione di realizzare, perché abbiamo avuto un'applicazione di capacità e espertese di un altro paese, di un'altra regione. Abbiamo avuto un'applicazione di capitalizzare per l'opportunità, Grazie a tutti.